senti da cosa vuoi vestirti ad halloween da cosa volevi vestirti ad halloween da cactus ho il costume che fa per te amore mio tutto per me tutto per te così guarda come si dice papà 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 tt cosa stai facendo fa ridere il tuo fratellone ciao ragazzi oggi vado a vedere la prima puntata di x factor e devo fare il make up da stamattina perchè ho 100.000 appuntamenti non riesco a farlo oggi quindi questo è il mio make up per andare a fare un pranzo di lavoro adesso va finissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti